Questo è il busto reliquiario di Santiobaldo, viene dalla cattedrale di Alba, un oggetto tra l'altro che ha avuto una storia travagliata perché è stato rubato negli anni Ottanta, era entrato in una collezione privata e poi confluito al Minneapolis Institute of Art negli Stati Uniti. È un busto di metà 400, è di nuovo un santo locale nato a Viccoforte nel Cunese e poi vissuto ad Alba nel XII secolo, le sue spoglie quindi sono sempre rimaste ad Alba. Il reliquiario è commissionato dal vescovo Rembaudi della città verso la metà del XV secolo e appartiene appunto a quel filone, prima si sono visti busti filone realistico, questo invece è quel filone più astraente. Molto stilizzato, sono stilizzati questi capelli a riccioli, gli occhi che hanno una forma quasi a pesce, quindi un busto hieratico, un santo che non deve assomigliare al vero santo, al vero personaggio ma diciamo a un personaggio soprannaturale.